Allora, buongiorno a tutti, siamo oggi qui con Daniele Rebeggiani in collegamento da Washington e siamo qui il 13 marzo del 2023 per fermarci un attimo e riflettere e guardare quelli che sono stati questi dieci anni, questi primi dieci anni possiamo dire del pontificato di Papa Francesco. Daniele Rebeggiani, che è già un amico della Newman perché ha seguito in questi ultimi anni, lavora l'annunziatura di Washington in America da tanti anni ed è un prete missionario del cammino negotucumenale. Daniele è un grande osservatore di quella che è la vita della Chiesa negli Stati Uniti e non solo, chiediamo a lui un aiuto per fermarci un attimo, come dicevo, e sottolineare, mettere a fuoco qual è stato il contributo più importante di Papa Francesco per la Chiesa in questi dieci anni. Vorrei partire da questa conversazione proprio in questo modo, ti chiedo in maniera un pochino diretta se magari tra un secolo Giovanni Paolo II verrà ricordato come un Papa carismatico, un Papa viaggiatore, se invece Ratzinger verrà ricordato come un grande teologo, un dottore della Chiesa. Secondo te tra 50 anni come ricorderemo Papa Bergoglio? Ciao Beppe, grazie dell'invito. Io direi che forse il tratto fondamentale per descrivere Francesco è proprio, lo definirei, l'incontro con la realtà. Cioè, una cosa che a me sempre ha aiutato, leggendo il Papa, anche vedendo il suo modo di agire nelle sue visite apostoliche, è stato questo, cioè di voler portare la Chiesa a un incontro con la realtà di povertà, di sofferenza che vediamo intorno a noi in tutti i giorni. Cioè, come facciamo ad essere cristiani noi oggi nella società in cui viviamo, di fronte alle sfide che il cristianesimo affronta? Allora, il Papa dice che questo discernimento ecclesiale non si può fare a tavolino, non si può fare declinandolo da un'ideologia cattolica, bisogna farlo nell'immersione, cioè nel contatto, nella prossimità con la realtà che incontriamo. Questa è una cosa che a me piace particolarmente perché risuona con il tipo di ministero che anche io sono stato chiamato a fare un po' attraverso il cammino, cioè questo di volersi fare uno, volersi avvicinare, entrare in contatto con tutte le situazioni di povertà umana. Lì si comprende un po' cosa vuol dire essere chiesa oggi, anche lì matura in un certo senso la vocazione cristiana. E questo lo considero una cosa importante, anche ricordando quello che tu citavi nella tua esperienza che ho letto anche con piacere citando Benedetto, cioè che la verità non si possiede ma che la verità ci possiede, cioè che la verità è Cristo e è chiaro che quindi l'incontro con la verità è un viaggio, cioè è un'esperienza che si sviluppa attraverso una serie di avvenimenti, no? E che non si può mai mettere un punto e dire ecco siamo arrivati, questa è la verità, cioè che c'è sempre uno sviluppo che parte da un'esperienza personale, cioè Cristo lo si può conoscere attraverso l'esperienza personale, bisogna sporcarsi le mani, bisogna entrare in un dialogo, no? Ecco in questo senso io penso che il Papa sta facendo alla Chiesa un servizio immenso, perché io vedo che invece la tendenza spesso è quella di chiudersi, cioè di creare delle roccaforti intellettuali nelle quali noi creiamo delle barriere, cerchiamo di difendere anche in un certo senso la fede, ma costruendo delle barriere ideologiche, anche politiche, cioè e questo un po' il rischio è che il cristianesimo quindi viene ridotto o semplicemente a un sistema di valori, nel peggiore dei casi a un sistema di leggi, no? Cioè di voler dire se io faccio A, B, C, allora sto a posto con la mia coscienza, oppure diventa una specie di feticcio della religiosità naturale, invece il cristianesimo fondamentalmente è la risposta al male dell'uomo, cioè alla sofferenza profonda, no? Ma questo uno lo scopre solamente se si butta, cioè se si entra in una situazione che anche a volte è scomoda, perché ovviamente mettersi in contatto soprattutto con la realtà oggi della società ci mette in dubbio, ci crea delle sfide, non sappiamo come rapportarci a situazioni estreme, io lo vedo questo, io faccio un ministero aiutando alcuni giovani di comunità, di famiglie immigranti in una zona rurale della Georgia, e lì in un certo senso ho visto come questo funziona, lì ti devi mettere con i giovani, devi metterti a parlare con loro e ti devi sporcare le mani con tutta la situazione della loro povertà, però poi lì, in questa interazione, io vedo che poi il Signore ti suggerisce la maniera di parlare, cioè la maniera in cui io posso portare la fede, declinare la fede in una maniera che risponde alle loro esigenze, e questo non si riesce a scoprire se non lì, questo è il luogo della prossimità e il luogo del discernimento ecclesiale, e in questo senso io credo che il Papa ci ha dato una chiave che è essenziale per poter oggi essere chiesa. Grazie mille, io vorrei cominciare a soffermarmi su due grandi temi che hai tirato fuori, uno è il tema ideologico e l'altro è il tema, possiamo dire, dello sviluppo. Sul tema ideologico ti porrei una domanda a partire anche un pochino da quello che vedo io, io abito in Inghilterra, dove c'è una chiesa cattolica, non direi la maggioranza, però una chiesa cattolica che vive di gran parte di gruppi conservatori, e molto spesso, se noi pensiamo al pontificato di Parco Francesco sembra che l'ermeneutica della polarizzazione sia quasi inevitabile, se pensiamo che la situazione americana, quella del Regno Unito, ma anche un pochino quella italiana, è come se la chiesa cattolica si divide in due grandi gruppi, in due grandi atteggiamenti, l'atteggiamento conservatore, che è incentrato sulla difesa di alcuni valori, magari dà più attenzione alla liturgia, dall'altra parte invece c'è un campo progressista che pensa all'apertura verso il mondo, che pensa allo sviluppo, al cambiamento. Ti faccio una domanda un po' provocatoria, dopo tutto quello che hai detto uno sarebbe tentato di mettere il Papa Francesco dunque nel gruppo dei progressisti, e effettivamente molto spesso l'etichetta che viene attribuita al Papa Francesco è di questo tipo, Papa Francesco progressista e quindi antipatico ai conservatori e simpatico ai membri del suo stesso schieramento. E' proprio così, cosa ne pensi? Questo della polarizzazione è una specie di piaga con cui io mi confronto tutti i giorni, anche perché poi, soprattutto nel lavoro che faccio io all'Annunziatura, nella scelta dei Vescovi, la politica purtroppo è inevitabile, quindi ci sono solo queste due etichette, oggi non è possibile avere altre etichette, o sei un conservatore o sei un progressista, che poi io vedo è un'ingiustizia grandissima fatta alle persone, fatta ai movimenti, perché è una riduzione ai minimi termini che non fa mai giustizia a nessuno. E' chiaro che una volta che si distilla il cristianesimo in questi due tronconi ideologici, ovviamente a quel punto anche il Papa bisogna cercare di categorizzarlo ed è più facile metterlo in questo distillato del cristianesimo più conservatore, che però entrambi sono abberranti, queste due distillazioni del cristianesimo sono entrambi abberranti. E in effetti poi quando cercano di mettere il Papa nel cantone liberale, questo non funziona mai bene neanche perché poi tutti vorrebbero di più e in effetti poi il Papa non ha mai fatto grandi aperture a cambiamenti dottrinali estremi, al contrario in un certo senso. E lì si vede che poi c'è uno scontento anche tra i liberali, quindi da un punto di vista sì, uno potrebbe cercare di mettere l'etichetta di un Papa liberale, però di nuovo a me sembra che questo non fa giustizia a quello che il Papa vuole. Il Papa vuole resistere a una definizione del cristianesimo che è cristallizzata e che quindi fondamentalmente non aiuta perché il cristianesimo è una realtà dinamica e vuole appunto spingere la Chiesa a questo processo di discernimento. E questo viene letto sempre come una apertura in chiave liberale, quando io credo che fondamentalmente non lo sia. Grazie mille Daniele. Io su questo aspetto dinamico che tu hai sottolineato della dimensione della fede che sicuramente è cura di Papa Francesco ti chiedo una domanda un po' anche di nuovo a partire dalla mia esperienza. A me sembra che la generazione in particolare di studenti che io insegno sono un pochino intrappolati dal concetto di fluidità, nel senso che questi ultimi anni, con la caduta delle ideologie diciamo tradizionali e poi con tutto quello che è successo negli ultimi due decenni, mi sembra che questi giovani sono molto spesso privi di punti di riferimento. Quindi io mi chiedo una domanda sincera ed è una domanda che alcune volte sento espressa anche, diciamo, dell'ala più conservatore, quella che è più pronta a creare delle barriere, a scavare delle trincee e che in un momento di questo tipo servono delle certezze. E quindi si pensa che parlare di sviluppo, parlare di dinamicità, parlare di andare fuori può essere in realtà non particolarmente utile per una generazione che invece è oberata, a sue fatta da discorsi che predicano un certo tipo di fluidità anche a livello epistemologico, anche a livello di conoscenza. Come rispondi su questo? Secondo te quello che il Papa dice, questo andare fuori, questo essere aperti allo sviluppo, è in contraddizione con una categoria della certezza e della verità? No, io non credo, perché fondamentalmente il cristianesimo si è sempre sviluppato attraverso della testimonianza personale, nel senso che le verità della fede non possono essere imposte, le verità della fede devono essere vissute, Gesù Cristo deve essere incontrato, così che poi le certezze vengono da questa esperienza personale, l'importanza dell'incontro. Per questo l'evangelizzazione è sempre stata fatta da un testimone, non da un proclama, cioè noi non abbiamo evangelizzato con le tesi affisse sulle porte delle chiese, abbiamo evangelizzato con i piedi dei missionari che hanno portato Cristo alla gente e questo incontro con Cristo alla gente risponde alle domande esistenziali e crea una base sopra la quale si fonda poi l'esperienza della fede, che parla all'uomo di oggi, che risponde alle domande profonde. Allora questo secondo me che il Papa vuole dire è proprio questo, cioè noi non possiamo pensare di evangelizzare con i comitati e con delle prese di posizione declinate fino ai dettagli, bisogna evangelizzare con le persone che escono da queste roccaforti e incontrano la società di oggi. Allora è chiaro che però questo incontro non può e deve avvenire, cioè con la disponibilità ad ascoltare l'altro, con la disponibilità ad aprirsi, perché bisogna creare un rapporto, cioè io mi ricordo il fondatore del Cammino per esempio, questo l'aveva capito molto bene, lui andò a vivere tra i poveri e quando andò a vivere tra i poveri viveva in una baracca in cui c'erano lì prostitute, c'erano drogati, c'erano spacciatori di droga, lui era andato lì e ha fatto un proclama delle verità della fede cattolica dicendogli che loro stavano peccando, dovevano convertirsi, perché ovviamente questa gente non era pronta, è andato lì, si è seduto tra di loro, non ha giudicato nessuno e ha cominciato a leggere la parola di Dio, ad annunciare Gesù Cristo e questo incontro con Cristo ha creato una risposta di fede e poi lui diceva a un certo punto questo zingaro che picchiava i figli e li mandava a chiedere le lemosina, a un certo punto toccato dall'amore di Cristo ha deciso di andare a lavorare, ha tolto i figli dalla strada e li ha mandato a scuola, ma chi come ha mai detto tu sei un disgraziato devi fare questo, non ha mai fatto tutto il cristianesimo moralismo, il cristianesimo è una buona notizia, ma se noi non stiamo lì nella realtà, cioè nell'incontro con la povertà creando una testimonianza di fede credibile che dà una speranza, allora questo non si realizza, le certezze della fede devono essere vissute a livello personale che poi nell'incontro con le persone che stanno lì disperate, che hanno bisogno di una risposta, questo diventa una verità che si traduce nella loro vita e che poi li aiuta e che convince perché è una cosa che nasce dal di dentro, che nasce fondamentalmente da un'esperienza del sentirsi voluti bene, se io sto lì nella strada con te a perdere tempo vuol dire che ti voglio bene, questo cambia il mondo. Senti, grazie mille Daniele, in questo lavoro che stiamo facendo di, possiamo dire, purificazione di una stereotipizzazione di quello che sono i punti fondati di questo pontificato, ti vorrei chiedere anche un aiuto per approfondire e comprendere meglio un'altra categoria molto carica da Papa Francesco che è quella della sinodalità, stiamo uscendo, anzi siamo ancora dentro un percorso sinodale e molto spesso anche tra le persone che conosco il concetto di sinodalità viene ridotto a una specie di concezione democratica, un luogo in cui ognuno può andare a condividere i propri lamenti o le proprie pretese. Anche qui, cosa interessa veramente a Papa Francesco? Perché anche in questa descrizione che tu facevi del pontificato come tentativo di radicare la fede dentro la realtà, che cosa contribuisce questa sottolineatura sulla sinodalità invece? Io credo fondamentalmente la sinodalità sia un esercizio di comunione che è fondamentale oggi nella Chiesa perché purtroppo la società moderna ha una tendenza all'isolamento che è endemica, endemica dei nostri modi di vivere, delle strutture che abbiamo creato nei social media e quindi la sinodalità vuole recuperare invece la dimensione ecclesiale che è una dimensione di comunione, quindi le strutture che la sinodalità suggerisce, la sinodalità io penso che Francesco la intenda non come uno strumento, un metodo, ma come un essere Chiesa e la Chiesa è sempre stata il luogo della comunione e della prossimità, per questo l'importanza io vedo di creare delle piccole comunità, i circoli minori, perché la sinodalità aiuta? Perché questo creare dei circoli minori, dei gruppi di ascolto in cui la gente possa parlare rompe la barriera dell'anonimato, a volte specialmente qui in America ci sono ancora Chiese con tanta gente, tu vai a Messa e ci sono, che ne so, 300-400 persone a una Messa, ma se tu chiedi a uno quante persone lui conosce, magari non conosce nessuno superficialmente, tu sai il nome di quello, ma conosci le sofferenze di quello che ti sta seduto vicino, sai quali sono le cose che lo fanno soffrire, conosci i suoi dubbi, se non si vince questo, se non si rompe questo anonimato, se il fratello non diventa per me reale, se le sue sofferenze sono invisibili, è chiaro che l'essere Chiesa non si dà, allora in questo senso la sinodalità è un esercizio che aiuta a questo, anche a quello che dicevo prima, all'incontro, all'ascolto dell'altro, bisogna creare delle strutture in cui è possibile recuperare il senso di comunione e il senso di essere Chiesa, non per creare una specie di parlamentarismo, che ovviamente anche lì è un'altra strumentalizzazione, una lettura della sinodalità, di nuovo in questa chiave ideologica, distillata, che purtroppo con questi occhiali del bipolarismo non riusciamo mai a toglierci di. Senti, traducendo tutto quello di cui stiamo parlando a livello geopolitico possiamo dire, in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, la posizione di Papa Francesco possiamo dire è quasi eccezionale in quello che è il panorama geopolitico mondiale, io vivo in un paese per esempio in cui il giudizio su quello che sta succedendo in Ucraina è totalmente unilaterale, non ci sono nessun tipo di sfumature di dubbio, dalla ultrasinistra, dalla ultradestra, su quello che è successo, su quello che sta succedendo in questo periodo e su quello che deve essere fatto, che è l'annientamento, la difesa del popolo ucraino dall'invisione putiniana. Senza togliere nulla la verità di quello che ho appena detto, mi sembra che invece la posizione di Papa Francesco sia leggermente diversa, o meglio più completa, più ampia. Ci aiuti a capirla un attimo innanzitutto e idealmente anche a contestualizzarla all'interno di quello che stavi dicendo, per cui quello che Papa Francesco fa anche extra ecclesiam, nel modo in cui poi si pone col mondo, di fatto è in totale continuità con quello che lui cerca di fare poi interno alla Chiesa. Quindi ti chiederei innanzitutto di farcela capire per bene e una seconda domanda se secondo te è effettivamente realistica, perché mi sembra un'altra delle tipiche critiche che fanno questo Papa e di presentare sulla situazione ucraina in particolare una visione utopica della realtà. La realtà è invece molto più complessa, il mondo è corrotto, l'uomo è peccatore e quindi c'è bisogno di il pugno duro, non di questo buonismo o questo cerchio e bottismo di cui invece il Papa viene spesso accusato. Sì, io credo che lì la posizione di Papa Francesco prima di tutto mi colpisce perché mi sembra oggi l'unica voce che cerchi di parlare di un cammino di pace e di mediazione, cioè ormai questo della mediazione è stato accantonato da entrambi le parti e quindi in un certo senso è una voce profetica quella del Papa che ha sempre in mente l'opzione dei poveri, cioè delle persone, delle vittime veramente della guerra, che è la gente sia in Russia sia in Ucraina, cioè che in entrambi i casi quello che non si sta guardando è la sofferenza generata da questa assurdità della guerra. Quindi il male dell'invasione russa ma anche adesso in un certo senso questa idea di voler sconfiggere la Russia a tutti i costi e i costi vengono pagati poi dalla gente che sta lì, che soffre, che viene, le tue case vengono distrutte, i soldati che vengono uccisi ogni giorno di cui ormai quasi non si parla. Mi colpisce che in questa guerra i numeri non vengono mai fuori, cioè nel senso che le migliaia di soldati che vengono uccisi ogni giorno è un dato irrilevante, no? Invece il Papa in questo senso continua a porre l'accento su questo, sul costo umano, sull'assurdità della guerra, di sacrificare tutte queste vite e da questo punto di vista il Papa, io penso, è il suo carisma è questo, cioè noi, la Chiesa non attua nel campo della politica, noi siamo il popolo dell'impossibile, cioè dove nessuno vede un cammino, Cristo ha aperto un cammino. Per questo in un certo senso io penso che anche a volte questo la gente non lo capisce bene perché abbiamo ridotto il cristianesimo un po' a una specie di morale di morale di vita in cui chiediamo a Dio di renderci persone decenti, no? Cioè più o meno aggiustare un poco. In realtà Gesù Cristo è venuto a fare l'impossibile, è venuto a farci camminare sulle acque, cioè Gesù Cristo è il figlio di Dio, ha il potere di cambiare il cuore dell'uomo e è questo che in un certo senso oggi abbiamo perso, c'è uno scettisismo nel senso che la realtà del peccato è così grande, la realtà del male è così grande che bisogna in un certo senso, come dire, settle for less, accontentarci, cioè che la possibilità di una pace duratura, la possibilità del perdono, della possibilità della riconciliazione sembrano ormai opzioni che non sono più disponibili. Invece no. Il cristianesimo è una buona notizia che dice che Cristo ha vinto la morte e che questa vittoria sulla morte è un principio che agisce dentro il cuore dell'uomo e lo ricostruisce dal di dentro e genera la pace. Non si può cercare di trovare la pace appunto solo con soluzioni politiche, bisogna agire alla radice del male che è il cuore dell'uomo e questo il Papa lo dice con chiarezza e a me sembra che questo sia il suo ministero e da questo punto di vista non è utopico, è forse il più reale di tutti perché a volte a me sembra che la pace che è il risultato di un compromesso politico poi sia invece quella che sia veramente utopica, che non si realizza mai, che è sempre una cosa molto fragile e invece la pace che porta Gesù Cristo è la pace vera perché si basa appunto sulla conversione delle persone, sul cambio del cuore, sul cuore nuovo. Senti, grazie mille, io concluderei con un'ultima domanda, vogliamo fare una cosa breve e agile per ricordare questo anniversario e la mia ultima domanda è partire da tutto quello che abbiamo detto, mi sembra che molto spesso la cosa più difficile da fare è se effettivamente seguire il Papa Francesco. I passaggi che abbiamo fatto in questa conversazione a me hanno aiutato per esempio veramente andare a superare alcune riduzioni di tipo ideologico o comprendere, rifocalizzare meglio effettivamente quello che il contenuto di Papa Francesco. Una domanda che divise in due termini. Cosa vuol dire per te seguire Papa Francesco nella tua vita personale e come si può, come possiamo noi tutti seguire Papa Francesco nella nostra? Qual è il metodo per andare oltre qualunque tipo di riduzione e liberarci dalla trappola ideologica che in qualche modo contamina tutti? Ma io credo che la risposta sia un itinerario di riscoperta della fede, nel senso che io vedo che, ma questa è la mia opinione personale, ma il problema del non comprendere il Papa e della strumentalizzazione secondo me è un corollario di una crisi di fede, cioè non avendo più una radice di fede vera, sincera, allora poi tutto viene fuorviato appunto da... quindi seguire Papa Francesco secondo me richiede un approfondimento della fede, cioè un catecumerato, cioè una riscoperta di che cosa vuol dire essere cristiani oggi. E questo bisogna farlo a livello delle comunità ecclesiali, delle parrocchie, dei movimenti, per questo io ovviamente la mia esperienza come la tua è quella di essere cresciuto e nato in un movimento in cui il movimento ci ha aiutato a riscoprire la fede. Da questo punto di vista io non so, a questo mi ha dato degli occhiali per leggere quello che dice Papa Francesco, era una chiave più esistenziale che a me aiuta, ma questi occhiali me li ha dati appunto l'itinerario di crescita della fede. Io credo che questo è il problema oggi che abbiamo nelle parrocchie, cioè che non aiutiamo più la gente a maturare una fede adulta e senza questa fede adulta, cioè che il cristianismo fondamentalmente non è un feticcio della religiosità naturale di io vengo faccio tre preghiere e il Signore così mi aiuta a superare gli esami, no? È una cosa profonda la risposta alla sofferenza, cioè è una chiave per capire nella mia storia il senso della croce. Questo tipo di fede, che è una fede radicale, che è una fede che è profonda, è la maniera poi per poter seguire il Papa, per capire quello che lui dice, per articolarlo nella mia esperienza di vita, nel mio ministro come sacerdote. Quindi io penso che questo è il punto, tante volte anche questo manca, cioè capire che oggi la necessità è questo, cioè dare alla gente la fede, creare un cammino di fede, che non può basarsi semplicemente su una pastorale sacramentale, perché i sacramenti presuppongono la fede, si deve appunto basare su una pastorale di evangelizzazione, di testimonianza e di appunto di creare un itinerario di riscoperta del battesimo, nel quale poi possiamo essere veramente chiesa, anche lì su questo si impernia anche il dialogo con le altre realtà, con la società moderna, con le altre religioni, ma viene da avere un'identità profonda che viene dalla fede. Grazie mille, quindi per approfondire un'identità di fede che comporta, riscoprendo l'invito di Papa Francesco a vivere dentro la realtà, quindi paradossalmente il realismo della fede è quello che è più urgente, anche per poter guardare a Papa Francesco come una sorgente e come una guida a questo livello, questo livello esistenziale, altrimenti tutto poi si confonde e cominciano gli scandali, i dubbi e alla fine uno si stacca e il percorso sinodale si interrompe. Grazie mille a Don Daniele da Washington, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a voi. Grazie a tutti.